Una maxidonazione da parte del sindacato della Polizia di Stato FSP, il cui segretario provinciale Rocco Caliandro. Donati 30 quintali di generi alimentari di prima necessità, pasta, latte e pomodori pelati. Sono stati distribuiti presso la parrocchia San Francesco de Geronimo, al rione Tamburi, alla Caritas Diocesana gestita da Don Nino Borsci, alla presenza dell'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Gabriella Ficocelli. I generi alimentari saranno distribuiti anche nelle città di Grottaglie, Martina Franca e Manduria, dove la Polizia di Stato ha dei presidi. Come comune di Taranto ovviamente non possiamo che intercettare questi gesti, questi atti di solidarietà così grandi per cercare anche di coprire l'intero territorio. Ecco perché oggi siamo qui nella chiesa di Don Nino Borsci e ai Tamburi, proprio per poter raggiungere anche le famiglie di questo quartiere. È chiaro che si tratta di un dono graditissimo che senz'altro andrà a favore di tante famiglie che stanno bussando alla nostra porta. Devo essere sincero, c'è stata disponibilità di tutti i colleghi. Noi come organizzazione sindacale tuteliamo i colleghi nei propri diritti, quindi in ogni caso in questo contesto abbiamo voluto dare invece un risvolto sociale, con questa raccolta che grazie alla Granoro e alla Granarolo, che non finiremo mai di ringraziare, ci hanno potuto dare questi alimenti, pasta, latte, pelati, che abbiamo donato ai servizi sociali e alle associazioni dei comuni di Taranto, Grottaglie, Martina e Manduria.